Il radiogiornale di DGS News con voi Martino Ciano. In Calabria la sanità malata è il caso dell'ambulatorio di cardiologia di La Mezzia Terme. Il servizio è stato sospeso per carenza di medici. Intanto sul Tirreno Cosentino tarda a riprendere il servizio notturno di ginecologia agli annelli di Cetraro. Ne abbiamo parlato con il direttore sanitario dello SPOC Paola Cetraro Vincenzo Cesario. L'intervista è vi ascoltabile su www.radiodgs.net e sul canale YouTube Radio DGS. A Praia Mare una vera e propria discarica nei fondali dell'Isola Dino. L'allarme è stato lanciato dall'Associazione Italia Nostra Alto Tirreno Cosentino che sta seguendo la bonifica dei fondali, copertoni e plastica, i materiali che sono stati recuperati finora. A scale alcuni dipendenti dell'ex consorzio Vallelao chiedono un incontro con la regione Calabria. Da tre mesi non ricevono lo stipendio e sono pronti a dichiarare lo stato di agitazione. Non tutti i lavoratori hanno aderito all'iniziativa di protesta. L'Ansa fondi pubblici destinati alla manutenzione dei principali servizi cittadini di Reggio Calabria distratti e lucrati dalle cosche di Indrangheta grazie ad accordi con politici e imprenditori collusi. E il quadro disegnato da un'inchiesta coordinata dalla DDA e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio che ha portato all'arresto di otto imprenditori che ricoprivano incarichi nelle società multiservizi partecipata del Comune GST fallite nel 2014 e nel 2015. L'accusa è di bancarotta fraudolenta. Si è conclusa anche per quest'anno la consulta dei calabresi all'estero con il consueti incontro presso la cittadela regionale a Catanzaro. Soddisfatti il consigliere Orlandino Greco che ha detto «Ho creduto fin dal primo momento nella funzione istituzionale, politica e culturale che la consulta dei calabresi all'estero svolge per la nostra regione a poche ore dalla conclusione dell'incontro annuale con tutti i consultori. L'ultimo della legislatura ritengo sia giunto il tempo di bilanci. Sono stati quattro anni intensi di lavoro, di impegno profuso soprattutto dai consultori, dalle associazioni, dalle federazioni di calabresi che da tutto il mondo hanno agito costantemente per mantenere alta l'immagine della Calabria nelle proprie comunità. Ad Amantea, domenica 6 ottobre, a partire dalle ore 17, l'inaugurazione della nuova sede dell'Avis attiva sul territorio del Tirreno Cosentino nella raccolta del sangue. La nuova sede si troverà nel centro storico di Amantea. Sara Seieva, con il libro Le Età Infelici, inaugurerà l'edizione 2019 di CalTour, la manifestazione del Cinecircolo di Diamante, domani alle 11, l'incontro con gli studenti del Liceo Scientifico Metastasio di Scalea. Poi alle 18 l'opera sarà presentata al Dac di Diamante insieme alla blogger Chiara Ruggero. È tutto, grazie per averci seguito.